Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegna, la segna stampa commentata di Italia dei Cambi. Nella puntata di oggi parliamo del caso Giulio Regeni che ha avuto una sorta di svolta questa settimana, un lunedì scorso. Parliamo della carne coltivata in laboratorio che è stata per la prima volta resa disponibile al commercio a Singapore. E infine parliamo di un report sui cambiamenti climatici che ci dà, diciamo, delle buone notizie per così dire. Insomma, però, vabbè, non vi anticipo niente, ne parliamo poi alla fine. Comunque andiamo con ordine, partiamo appunto dalle novità sul caso Giulio Regeni che è un caso che a quasi 5 anni dalla morte del ragazzo continua a far discutere a livello internazionale. Bene, lunedì c'è stata questa novità, ovvero che la procura egiziana di fatto ha dichiarato ufficialmente che non collaborerà con quella romana nelle indagini che riguardano il coinvolgimento dei servizi segreti egiziani nella morte di Giulio Regeni. Ed è la prima volta che l'Egitto prende una posizione così aperta, così netta sul caso. Comunque, la storia immagino che la conoscerete, ma ve la riassumo per sommi capi. Giulio Regeni fu ucciso all'età di 28 anni fra la fine di gennaio e i primi di febbraio del 2016 al Cairo dopo essere stato torturato per una settimana. Questo almeno disse all'epoca l'autopsia. Si trovava al Cairo per fare una tesi di dottorato sui sindacati egiziani. Sindacati che si opponevano ad Al-Sisi, allora premier e tuttora premier dell'Egitto. E sindacati con cui alcuni suppongono, sostenevano che Regeni avesse dei legami. Fatto sta che la sua morte solleva un bel polverone internazionale e anche diventa una sorta di incidente diplomatico fra Italia ed Egitto. E da lì inizia una sorta di pantomima da parte del governo egiziano che inscena una serie di depistaggi per evitare che vengano compiute delle indagini vere e proprie sulla morte del ragazzo. Il 24 marzo, ad esempio, del 2016, quindi a circa due mesi dalla morte di Regeni, il ministro dell'interno egiziano scrive su Facebook che il caso è stato risolto. I colpevoli sarebbero stati quattro membri di una banda criminale specializzata nel fingersi agenti di polizia e rapinare turisti stranieri. Solo che c'erano diversi elementi che non tornavano in questa storia. Innanzitutto i rapitori erano stati tutti uccisi in uno scontro a fuoco con la polizia e quindi non potevano fornire la loro versione. Il governo egiziano comunque aveva diffuso le foto del passaporto di Regeni, della sua carta di identità italiana, di una carta di credito e del suo tesserino dell'Università di Cambridge, perché Regeni studiava a Cambridge e poi appunto si era recato in Egitto per alcuni mesi per svolgere la sua tesi di dottorato. Comunque aveva diffuso questi documenti sostenendo che fossero stati trovati in possesso del gruppo di criminali ma tutta questa ricostruzione resta in realtà solo pochi giorni perché venne fuori che al momento della scomparsa di Regeni il capo di questa banda criminale si trovava più di 100 km dal luogo del sequestro e poi c'erano anche tante altre cose che non tornavano per esempio le autorità egiziane non sapevano spiegare il motivo per cui dei criminali comuni avrebbero dovuto torturare Regeni per una settimana intera prima di ucciderlo dopo avergli già rubato tutto quello che potevano rubargli e le autorità italiane erano anche riuscite a scoprire che i documenti di Regeni erano stati portati nella casa di uno dei presunti rapitori da un poliziotto. Quindi questo fatto portò a un caso diplomatico allora il governo Renzi nel 2016 venne ritirato l'ambasciatore italiano al Cairo che poi venne riassegnato soltanto diversi mesi più tardi dopo che il governo egiziano mostrò un atteggiamento più collaborativo. Comunque lunedì dopo un vertice fra il procuratore capo di Roma e il procuratore generale del Cairo i due magistrati hanno diffuso questo documento congiunto che spiega sostanzialmente che le due procure procederanno separatamente le due indagini su piste completamente diverse perché la procura di Roma chiude di fatto, sta chiudendo le indagini e si appresta a procedere contro cinque agenti segreti del servizio cinque agenti dei servizi segreti egiziani mentre la procura egiziana sostiene che non ci siano prove di fatto contro gli agenti e che invece ci siano prove sufficienti solo nei confronti della banda di criminali comuni quelli che furono trovati in possesso dei documenti di Regeni e poi uccisi dalla polizia che però a questo punto sono accusati di furto visto che l'altra versione non regge più di fatto la procura egiziana del Cairo ha deciso di procedere solo per il furto dei documenti dicendo che su chi è effettivamente ucciso il ragazzo non si sa niente quindi non abbiamo prove sufficienti per fare nessun tipo di indagine sostanzialmente è appunto una svolta nel senso che c'è questa posizione ufficiale molto forte da parte dell'Egitto in questo momento che sostiene di aver fatto il possibile e che non vuole indagare oltre una presa di posizione a cui la Farnesina per adesso si è limitata a commentare cioè sostanzialmente le uniche ricreazioni che sono arrivate dal governo e dalla Farnesina sono che non ci sono commenti è una situazione che ancora in evoluzione è insomma abbastanza triste anche vedere poi la sofferenza della famiglia di Giulio Regeni che non trova un appiglio nel... non so... non trova probabilmente un senso di giustizia in tutta questa situazione però appunto sembra veramente una storia di altri tempi noi ovviamente continuiamo a seguire il... tutta la vicenda nel caso ci fossero degli aggiornamenti e ci teniamo aggiornati qui su Iroamigasi comunque cambiamo radicalmente argomento ci spostiamo a Singapore dove, come vi anticipavo, la carne coltivata in laboratorio prodotta all'interno dei bioreattori quindi senza la macellazione degli animali è stata per la prima volta al mondo approvata per la vendita da un'autorità di regolamentazione Singapore... regna? non lo so... di Singapore, mettiamola così si tratta dei bocconcini di pollo, i nuggets di pollo prodotti dalla società americana Eat Just che non c'entra con Just Eat e che hanno superato il controllo sulla sicurezza da parte della Singapore Food Agency l'approvazione... questa approvazione ha sostenuto la società americana apre le porte a un futuro in cui tutta la carne sarà prodotta senza bisogno di uccidere il bestiavo ne abbiamo già parlato qualche giorno fa la sensazione è che se si osserva questa soluzione con gli occhiali del pensiero sistemico non è poi questa grande soluzione sia per il consumo di energia ma per tanti altri motivi forse meriterebbe farci anche una puntata dedicata a questo tema della carne sintetica infatti l'abbiamo fatto ma ho la sensazione che ci sia ancora molto altro da esplorare comunque finiamo con una nota di fiducia nella lotta ai cambiamenti climatici che ci arriva dall'organizzazione non governativa Climate Action Tracker che dopo aver esaminato i nuovi impegni presi dai vari governi di molte potenze mondiali fra cui soprattutto la Cina con le ultime dichiarazioni di Xi Jinping e gli Stati Uniti con l'elezione di Biden conclude che gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima siglato nel 2015 stanno diventando a portata di mano parliamo, diciamo, questa organizzazione non governativa di tanto in tanto pubblica dei report in cui ipotizza quale sarà la temperatura del pianeta Terra al 2100 dopo il fallimento del vertice di Copenhagen del 2009 aveva ipotizzato che avremmo raggiunto i 3,5 gradi centigradi quindi con le ultime novità il nuovo report assesta l'aumento della temperatura globale al 2100 ai più 2,1 gradi centigradi che è quasi in linea con lo scenario peggiore degli accordi di Parigi ora, ovviamente, da una parte è molto complicato riuscire a stare entro i due gradi di riscaldamento climatico per tantissime ragioni che, insomma, non abbiamo il tempo di spiegare nonostante tutte queste nuove dichiarazioni insomma, però è un obiettivo difficile, possibile, ma difficile da raggiungere che richiede molto impegno da parte di tutti noi e la seconda cosa è che, comunque, ricordiamoci che è un aumento di 2 gradi significa comunque un pianeta molto diverso da quello che conosciamo una società umana molto diversa ma comunque un pianeta abitabile quindi in questo senso dicevo che è una buona notizia, prendiamola come tale è un report non ha un valore particolarmente importante nel senso che non stiamo ancora osservando una diminuzione della CO2 o comunque una stabilizzazione della CO2 in atmosfera che continua a crescere però ci sono sicuramente dei segnali interessanti detto ciò io vi saluto vi do appuntamento domani con una nuova puntata di una mia segno sempre al 10 sempre per 10 minuti e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto ciao